Lì dove Dio ti ha seminato, spera, sempre spera. Non arrenderti alla notte. Questo mondo è il primo miracolo che Dio ha fatto e Dio ha messo nelle nostre mani la grazia di nuovi prodigi. Quindi, tutto nasce per fiorire in un'eterna primavera. Anche Dio ci ha fatto per fiorire. Ovunque tu sia, costruisci. Se sei a terra, alzati. Se sei seduto, mettiti in cammino. Se la noia ti paralizza, scacciala con le opere di bene. Se ti senti vuoto o demoralizzato, chiede che lo Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo nulla. Ama le persone. Amali, ad uno ad uno. Soprattutto, sogna. Non avere paura di sognare. Dio è il tuo amico. Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore. Coltiva lo stupore. Vivi, ama, sogna, credi e con la grazia di Dio non disperare mai.